Ciao a tutti e oggi in questo nuovo video di Nazuma Raven Go Chronostone dove faremo il set definitivo di un difensore fuoco che fa parte della squadra perfetta il set definitivo è su Deve e mi è stato inviato da Zanark99 lo ringrazio per avermelo inviato sempre molto bello ricevere i vostri set ne aspetto degli altri anche se adesso ne ho ancora qualcuno da fare nei prossimi giorni cominciamo con questo set allora difesa a 374 ovviamente per i difensori bisogna fare le stesse cose che va fatto per gli attaccanti solo che invece di aumentare il tiro fino ad raggiungere i 30 di tecnica dobbiamo aumentare la difesa prima fino a raggiungere i 30 di tecnica poi bisogna dargli i guanti zero qui vabbè la tecnica arriva a 94 non dovrebbe essere un problema perché le tecniche che abbiamo non sono cioè abbiamo acrobazia robotica che è più di un giocatore sono tre giocatori che la eseguono quindi va bene anche la tecnica a 94 l'assalto piroclastico mi sembra che invece in tecnica ne chiede 90 in passo di goldi e proiettili di archibugio non sono tecniche così forti da richiedere 100 di difficoltà quindi così la difesa può anche andare bene a 374 il tiro è un po' aumentato perché abbiamo anche un tiro da lontano poi abbiamo la velocità che secondo me va un po' aumentata ancora di più ma va bene anche così visto che stiamo parlando di difensore e la fortuna è fin troppo alta perché se non sbaglio è il tiro la fortuna nei difensori la fortuna diminuisce non mi ricordo se la fortuna nei difensori diminuisce il tiro no l'attacco o la presa non mi ricordo uno dei due quindi può anche andare bene così come parametri magari all'allenare un po' di più la velocità per il resto va bene come tecniche visto che un difensore fuoco vabbè acrobazia robotica pure se fuoco pur se fuoco non va assolutamente tolta perché è una tecnica difensiva molto forte 180 di potenza mi sembra poi abbiamo ovviamente la tecnica offensiva assalto piroclastico va più che bene ma va bene anche come si chiama globi di luce anche quella è ottima oppure ce n'era una non mi ricordo però ce n'era anche un'altra fuoco che andava bene una che costa 40 pt l'impasto di gold è una tecnica difensiva blocco quindi va bene assolutamente e un tiro da lontano ci può stare non è obbligatorio però un tiro da lontano ci può stare se invece non gli ho dato un tiro da lontano il tiro glielo diminuite fino a 1 visto che non serve poi come tecniche extra abbiamo un colpo critico e un fuoco più che colpo critico ovviamente aumenta la probabilità di fare colpi critici mi sembra del 50% e fuoco più aumenta la potenza delle tecniche fuoco ovviamente tutte queste 4 tecniche da acrobazia robotica proiettili di archibugio o che altro gli date vanno allenate perchè il valore aumenta quando le tecniche sono evolute poi abbiamo anche gli scarpini 0 non l'avevo detto prima ovviamente per aumentare la velocità non è peraltro ovviamente perchè gli scarpini 0 aumentano solo 10 di tiro quindi per gli attaccanti non sono molto utili andiamo a vedere il mixmax con goldi arriva la sette visto che è un giocatore della squadra perfetta fa mixmax ideale con tutti quindi goldi va più che bene la velocità va a 236 quindi è molto veloce e buono la resistenza per me è un po' troppo alta la fortuna è ottima la difesa ancora più ottima 743 ma secondo me in qualche modo potrebbe fare quel valore potrebbe essere più alta non lo so perchè perchè visto che fa ideale con tutti mi sembrava che poteva fare più alto vabbè il tiro a 294 va bene dai come extra da passare col mixmax ovviamente un fuoco più e la difesa più più visto che è un extra che si passa cioè un extra in più quando si fa il mixmax ideale con i giocatori della squadra perfetta i difensori passano difesa più più poi abbiamo come spirito amaterà su omega qui invece avevamo tenebro livello 2 va bene va bene ok vediamo come allenare goldi ovviamente va bene le extra come potete vedere difesa più più non c'è perchè vi avevo detto che è un extra che si passa solo tramite mixmax quindi non ce l'ha goldi poi vediamo il tiro al massimo va bene la difesa 349 è proprio al massimo quindi non si può fare di più visto che anche se è mixmax ideale gliela passa proprio tutta però non arriva più di 7243 la velocità va aumentata ancora di più questi sono i consigli che do a zanark99 e anche a chi vuole seguire questo set ovviamente sono consigli e non altro e la fortuna è al massimo quindi direi che è proprio fatta bene i parametri sono stati allenati nel modo giusto a parte il modo della velocità non dico di allenare la velocità fino al massimo perchè sarebbe troppo bassa la resistenza e visto che qui non usiamo il sudore e lacrime la resistenza un po' ci serve ora vediamo i valori con proiettile di archibugio vabbè il valore è molto basso perchè la tecnica non è voluta e perchè non è molto forte 798 questa tecnica serve solo perchè è un tiro da lontano e nei casi estremi si può utilizzare per fare dei tiri a catena anche se io li uso molto raramente pure se li ho dati alla mia squadra vediamo l'assalto piroclastico evoluzione 1 che fa 921 non è un valore molto alto però a livello evoluzione 2x o y o z potrebbe arrivare a 1200-1300 di più non credo quindi è consigliabile magari una extra cioè una come si chiama una tecnica un po' più forte tipo globi di luce quella è molto più forte poi comando difesa 21 che si trova che fa un valore di 1182 ma che è voluta al massimo arriverebbe a 1500 non so perchè i valori sono così bassi forse perchè l'armatura non è al massimo io non lo so se l'ha attivata proprio subito non lo so però mi sembra strano questi valori bassi vabbè ovviamente la tecnica quando si evolve al massimo arriverebbe anche a 1500-1600 quindi non è proprio poco l'impasto di gold fa 1223 evoluzione 1 quindi arriverebbe anche questa a 1500 con l'evoluzione al massimo ok abbiamo fatto vedere tutto ringrazio di nuovo zanark99 per avermi inviato il suo set anzi ne aspetto altri da voi visto che nei prossimi giorni ne ho da fare altri però continuate a inviarmeli che io li faccio proprio subito sceglierò i più forti e li farò li faccio in ordine vabbè oltre che farli in ordine di quanti di chi me l'ha mandato li faccio in ordine anche dei più forti vabbè allora direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao a tutti sì ok Grazie.